La televisione sta cambiando in tutta Europa. In conformità alle nuove leggi, Italia 2 TV dal 20 ottobre 2021 trasmetterà in alta risoluzione in streaming video sul nostro sito www.italia2tv.it, visibile su tutti i televisori smart. Puoi seguire l'intera programmazione giornaliera 24 ore su 24 sul nostro sito www.italia2tv.it, cliccando su diretta streaming. Italia 2 TV sarà visibile su tutti i televisori smart collegati alla rete internet. I televisori che non ricevono i segnali in HD potranno continuare temporaneamente a ricevere il segnale sul digitale terrestre tramite antenna. I televisori che non ricevono i segnali in HD potranno continuare temporaneamente a ricevere il segnale.